Siamo qui con Luca Pizzini al trofeo Grand Prix di Napoli, bella atmosfera, pubblico caldo. Quali sono le tue impressioni in acqua e che hai avuto dal pubblico di Napoli? Beh, qua all'accoglienza di casa, quindi si coccolano e si ospitano nei migliori dei modi. È bellissimo essere qua, è la prima volta, quindi per me non ho un metodo di paragone, però con l'anno scorso però già la prima volta è ottimale, è proprio tutto perfetto. I tempi in acqua sono in linea con gli allenamenti che stiamo facendo adesso, quindi sono abbastanza contento, niente di che, né carne né pesce. Prestazioni più per lo spettacolo, anche tra i ragazzini che vedono tutti voi giustamente come idoli e campioni. Ora la tua preparazione prevede un bel po' di lavoro, tappe intermedie, fino ad arrivare all'evento clou della stagione, quelle che sono gli europei, dove tu ti presenti per difendere quella medaglia che è conquistata a Londra in modo grandioso. Sì, adesso ci saranno una decina di settimane più o meno di lavoro intenso, senza guardare troppo le tappe di intermezzo che ci saranno, quindi i giochi mediterranei e i sette colli. Andremo dritti a Glasgow con la preparazione, saranno un po' dure però, insomma, come sempre. Saremo tutti con te e con i ragazzi nazionali a fare il tifo. In bocca al lupo! Crepi il lupo! Ciao a tutti, un abbraccio!